Porniamo ad analizzare il gol della Parma, il quadro dell'1-1 con la palla allontanata, Cardinale che calcia, Demiere che respinge, arriva Rappa che deposita in rete. Vediamo ancora a rallenti l'azione perché a un certo punto vedrete sbucare dalle retrovie della linea difensiva della Don Carlo Rappa. Ma zoomiamo ancora di più sul movimento di Rappa fin dall'inizio dell'azione, vedete Rappa con il numero 10 arriva sul fondo, mette al centro, noi continuiamo a seguire Rappa con le immagini, lo vedete, la palla arriva a Cardinale e Rappa sparisce dall'inquadrotro per poi riapparire perché è chiaramente in posizione irregolare.